In questa settimana di Ferragosto ha fatto molto discutere una recente intervista dell'attrice Jane Alexander che nel 2018 ha preso parte alla terza edizione del Grande Fratello Vip. L'ultima condotta da Ilari Blasi nonché la più sfortunata, l'edizione è stata vinta da Walter Nudo ed ha visto al centro delle dinamiche la storia d'amore fra Giulia Salemi e Francesco Monte ed il caso Trash fra la Marchesa d'Aragona e Maria Monsè al grido di Marchesa o non Marchesa. Attrice storico volto di Alisa di Rivombrosa Quando Jane Alexander o Gian Alessandra per gli amanti del Trash ha confermato la sua partecipazione al Grande Fratello Vip tutti i suoi fan sono rimasti scioccati. Tutti dovrebbero fare il GF e Vip almeno una volta nella vita, le sue parole a Diva Donna, quello è l'unico posto al mondo in cui non sei nel mondo. Protetta da tutti i problemi e fastidi che stanno fuori, dal cane che sta male alle bollette da pagare. Là dentro hai solo il tempo di pensare. Se non fosse che mi ha distrutto come attrice, visto che per due anni non ho più lavorato. Per il resto ci tornerai domani, subito, a domanda diretta sul perché ha accettato di partecipare. Jane Alexander ha risposto, mi incuriosiva come esperimento sociale e soprattutto perché mi pagavano. Chi ti dice il contrario non ci credere, racconta Balle, e su Elia Fongaro, il velino biondo di striscia la notizia con cui ha avuto una storia d'amore sotto le telecamere. L'attrice ha chiosato, ho perso la testa. Avevo bisogno di qualcosa che lì mi è stato dato. Jane Alexander non è mai una che finge. Quando perdi la testa segui solo l'istinto e sbagli. Ho capito che quando perdi la testa non dovresti fare niente. Restare ferma, immobile, non lo sento più, non voglio parlare di lui, non è interessante. Nonostante tutto Jane è stata una delle concorrenti più lucide e interessanti di quell'edizione.